Bentornati su MyFootballGersey. Oggi andiamo in Premier League per vedere la prima maglia dell'Arsenal per la stagione 22-23, questa volta però in versione player perché in versione fan, trovate qui sopra la recensione, l'avevamo già vista. La maglia presenta una grande novità, il ritorno del colletto Apollo dopo ben 16 stagioni. L'ultima volta era presente sulla speciale maglia Bordeaux del 2005-2006 in onore dell'ultimo campionato disputato ad Highbury. Il colletto è accompagnato da un motivo a zig zag che richiama il disegno di un fulmine, un elemento già visto sulla terza maglia 2021-2022 trovata in alto alla recensione. Il resto della casacca rispecchia il modello ideato da Herbert Chapman, corpo rosso e maniche bianche, con l'aggiunta della scritta Arsenal applicata sul retro del collo. La maglia Authentic è la versione indossata in campo dalla squadra. La vestibilità più aderente rispetto alla versione fan è progettata per il fisico dell'atleta. Veramente bella! Nella mia classifica questa prende 4 stelle. Questa versione player devo dire che ha un tessuto molto più bello della versione fan e vi ricordo che trovate qui in alto la recensione ed è fatta veramente molto bene con tutte le patch attaccate nel modo giusto con una qualità ottima. Il costo lo vedete qui sopra che, vi ricordo, include anche le spese di spedizione. Qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia. Ora prima di lasciarvi la parte finale io spero che possiate regalarci un like e iscrivervi al canale fatemi sapere nei commenti quale altre maglie vorreste vedere in futuro. Per oggi è tutto ci vediamo alla prossima! Io sono alto un metro e 75 e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player